Musica 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 Ah vaffanculo, tu e il video Oh, oh, ciao ragazzi Oggi siamo qui su Si chiama così il gioco Ti fa lo scattaro più forte Ok, questo gioco Funziona E' un gioco 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 Ah, questo gioco E' un gioco Perché è un gioco Perché è un gioco Questo non può stare qua Si, allora Ryan Con lo schermo nero Ehm 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 Basta, usciamo dal mondo E' quando hai fatto la striscia No, no, gioca più Ma, adesso, te l'amone Mi ho fai Diceli quando ho fatto quella striscia Ehm Questa pubblicità Per vedere che gioco è E' un Tipo Vedete quel gioco Laptop 2000 Sì, no Vi è presente quel gioco di Di Youtube Che tu eri uno Youtuber Dovevi fare bla bla C'è anche quegli streamer Ma, sì Anche tu Se porti Pug Dove porta Among Us E poi Tetris Tanto a Ryan dopo gli do fuoco Perché è un mongolo Un cretino Un deficiente E' già uscito un video su questo gioco Fatto a cazzo di cane Ok Ryan Devi entrare nel mio mondo Quello segreto Il codice ce l'hai, vero? Due giocatori, va bene? Sì Andiamo Questa è una delle mappe che ho Che mappa ho preso Ryan? Una mappa Oh, in teoria E dove gotta Ciao 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 Oh yeah Dove sei spawnato adesso? L'ospedale è sicuro Adesso io ci vengo C'è il cartello con l'anatra No sono all'ospedale No c'è il cartello con l'anatra Che dice 666 Chi è quel tizio con la mia macchina? C'è, sei l'ospedale? Sì Ci rimani? Stai fermo? Ok Fa un balletto nel mentre Adesso arrivo Prova a parlare con il microfono accedo vai Non posso parlare so lontano Però prova No Anche se sono andato prova tutto Si vede quando uno è un mongoloide E non ha mai fatto niente nella sua vita Io sono Mashmanago quindi Mashmanago è un mashago Io ovviamente ho le auto gialle Ryan ce le ha Rosse Toglio questo volume Entro 3 secondi E ti uccido Chi ti ha detto di salire in macchina? Dovevo girare E se le cose? Sono fermo Sono uscito Sono morto Mi hanno lanciato una macchina addosso Sto arrivando Ryan Ok E solo con poca vita adesso ho le barre di vita merdose Adesso io vengo da te E tu esci in un'altra Vai in un'altra stanza e parliamo Va bene Ryan? Vai via questa stanza Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sì, poi è tutto satanico, quindi... Il mongolo dove sta? Entriamo in auto, allora. Entriamo in auto... E ripariamo l'auto, ovviamente. Ho riparato l'auto, ovviamente in inglese è il gioco, quindi... Da bravo bambino metto pure time, 160. No, non mi vuole bene. Ma dovrebbe funzionare però. Time... Fratello, sono vicino alla sabbia. Te ne vai via? Fratello mi manchi. Io... Tu no. No, non mi metto il tempo. Poi lui dicevi che è vicino alla sabbia. Manco so dove sta la sabbia, io. Adesso dovrei fare un intro solo per questo. Non è lui... Noi non ce l'abbiamo queste macchine in dotazione. Noi di macchine in dotazione abbiamo il pulmino VGF. Un furgoncino. No, abbiamo un pulmino VGF. Quello di Minecraft. Abbiamo quest'auto. Poi un'auto da corsa. Abbiamo... CBR. E io ci vado. C'è la tua auto qui comunque. Mi è arrivato pure un proiettile, stranamente. No, non ci provare. Farlo per l'audience. Spara. Ti ho visto. Dai, spara ancora se hai coraggio, eh. Avete sentito l'audio di sto scemo? Non lo ho mai mai fatto così strano. Come si scrive Repair? Di futuro non così. Ah, ma c'è scritto anche qua sopra. Ah, ma c'è scritto anche qua sopra. Mettiamoci alla sole. In pratica il gioco è uguale a GTA. Io ovviamente mi sono vestito così, sapete pure il perché. E GTA. E GTA. Poi ci sono diverse mappe. Mettiamo al punto satanico. Mettiamo al punto satanico. Voglio la King. Grazie. E dall'auto più veloce di LAC. E dall'auto più veloce di LAC, cioè l'AC, facciamo un po' di cose così. Che in realtà tu mi dovresti fare un cerchio perfetto. No, non mi viene un cerchio perfetto perché è stronzo. Comunque per non usare GTA, perché è GTA in video, non funziona a me. Ho rotto in culo. Io sto facendo un video. Tu mi vieni a rompere i coglioni? Tu vieni a rompere i coglioni a uno youtuber? No, in realtà io ho iniziato su TikTok. No, io ho iniziato su Instagram nel 2014. Nel 2016. Nel 2016 sono passato a YouTube. Sono passato a YouTube. Perché YouTube come piattaforma è già più contigua. Poi. Questa terroia faceva le cose brutte. Poi. Poi dopo sono andato su Twitch ovviamente. Perché Twitch è bello. Poi Twitch. Poi dopo Twitch TikTok ovviamente. Peccato che TikTok esiste dal 2015 ormai. Non so quando esiste TikTok. Io l'ho iniziato a usare nel 2018. Mori troia, mori. Hai scritto il nome sbagliato. Quindi da... Aspetta che prenda la pistola. Stelo non ti trovo. Tu fai schifo al cazzo. Quindi da... Ho un ombrello incastrato in testa ma comunque... Da me... Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. Grazie a tutti.